Le forme che ho adottato io nel mio B&B, praticamente per le pulizie, diciamo tutto quello che riguarda l'esterno, usiamo il pozzo e quindi non tocchiamo l'acqua della condotta. Poi abbiamo, c'è la lavastoviglia, dove uso quotidianamente, proprio per non lasciare aperto molto il rubinetto e quindi esserci uno spreco di acqua superiore magari a quello che invece serve. Poi abbiamo l'asciugatrice, che praticamente io non ho messo lo scarico nel lavandino, ma bensì riciclo l'acqua così la posso usare per stirare. Rita, perché hai deciso di prendere parte al club Friends of Maristanis? Perché appunto è un gruppo, Friends of Maristanis è un gruppo che ama molto la natura, cerca di non fare degli sprechi e quindi la pensano come me su molte cose e quindi ho diritto a questo gruppo, a questo progetto che loro hanno e lo condivido in pieno.